Il Movimento Sociale italiano per i più anziani ha rappresentato una ragione, per i più giovani è diventata una scuola di vita, per tanti, tra cui chi vi parla, il Movimento Sociale italiano è stata una palestra di moralità, siamo diventati uomini nel Movimento Sociale italiano. E soffriamo della stessa intima sofferenza che credo sia nell'animo di chi abbandona la casa paterna, sapendo che in quella casa non tornerà più. Noi abbiamo consegnato il Movimento Sociale una storia perché c'è un movimento del passato così come l'antifascismo. Questo è chiaro perché l'antifascismo ha una reazione con il fascismo, quindi non ha raggiuntesco. Della sincerità degli atti politici... Indiscutibilmente non si può essere contenti, allegri se si pensa a quanto noi abbiamo operato e magari anche sofferto in questi 48 anni, dal 26 dicembre 1946 a oggi. Naturalmente chi come me è dall'inizio Movimento Sociale e basta, può sentire meno l'esigenza che i giovani, che lo stesso Fini ha oggi. La nuova reazione è la immagine sociale e popolare del futuro. Non si riesce a capire perché una forza che vince tre campagne elettorali, che ha il miglior segretario del partito, che qualunque partito possa avere, di colpo si debba sciogliere. Vorrei capire chi l'ha ordinato, perché, che senso ha. Noi potevamo, insieme ad Alleanza Nazionale, come abbiamo fatto il 27 di marzo, creare quella destra sociale per la quale gli italiani hanno votato perché il 27 di marzo è stato uno scatto di orgoglio del popolo che non contava nella Prima Repubblica.